Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, io ci ho dato un sacco di roba oggi, vi devo dire la verità. Devo dirvi un sacco di cose che sinceramente devono essere affrontate. Allora, fra pochissimi secondi noi andiamo a parlare. Sapete che si parla un po' di Inter, no? Di Inter, di Roma, di Juve, si parla un po' di calcio italiano, di scandali che in questo periodo secondo me sono veramente incredibili. E quindi dobbiamo tornare a parlare fondamentalmente di questa cosa perché come al solito c'è chi non vuol vedere e come al solito c'è chi parla vuoto. Quindi bisogna parlare di fatti, fondamentalmente parlando, bisogna parlare di cose reali e quindi rimanere ragazzi di cose anche se vogliamo molto che sono state riportate dai giornali. Non è che ce le stiamo qui a parlarne noi da soli. Detto questo, che dobbiamo fare? Tre cose molto semplici, iscrizione, solito like, solita campanellina sempre da notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando ragazzi è veramente molto importante. Io vi ricordo che se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche non vi arrivano mai i video e se vi va potete ovviamente venire a seguirmi all'interno dei miei social. Vi ringrazio molto. Allora, quanti scandali stiamo leggendo ultimamente il calcio italiano? La maggior parte provengono dall'Inter, no? Da dove partono i tre problemi principali dell'Inter? Facciamo un video che va a riepilogare un pochino quello che sta succedendo, eccetera, eccetera. Anzi, facciamo un video che va a discutere un pochino di un problema che è molto diffuso da questo punto di vista. Si parte sempre dal solito problema con l'Inter, con OAC3 che ormai penso conosciate molto bene. OAC3 è un fondo che ormai è all'interno dell'Inter e che quindi di conseguenza gestisce l'Inter. Ma l'Inter non ha solo problemi di questo tipo. Perché non è solamente un problema relativo ai debiti che l'Inter ha avuto e di cui si è, diciamo, resa protagonista. Ma ci sono stati anche problemi che hanno riguardato sia delle, diciamo, delle questioni relative al bilancio. Quindi prima di tutto anche questioni relative ad alcune operazioni, ad alcuni scambi avvenuti a livello di giocatori qualche anno fa. E quindi la procura ha aperto un fascicolo anche su quelle cose là. Ma il fascicolo principale e il fascicolo iniziale è stato aperto su problemi di bilancio. Mi ricordate che la fondazione, quindi i ragazzi di identità bianconera, hanno inviato un esposto alla procura di Milano chiedendo un chiarimento su quello che è accaduto negli scorsi anni con l'Inter. Visto che l'Inter è accusata, a livello di bilancio, di aver, diciamo, trascritto cose non esattamente, diciamo, pulite. Perché, diciamo così, non voglio andare oltre perché non sappiamo niente di più e quindi ci asteniamo dal dare giudizi che siano troppo trancianti, troppo forti, troppo, diciamo, niente da dare giudizi. Ora, ipoteticamente dovesse essere dimostrata questa colpevolezza dell'Inter a livello di bilancio, ci sarebbero tante cose da dire. Tanta gente mi scrive e mi dice, mette, tu parli dei problemi di bilancio dell'Inter e la procura conferma, no, perché ha aperto il fascicolo, ma fondamentalmente parlando, cosa c'è di sbagliato nei bilanci? Fin quando noi non abbiamo i bilanci fra le mani, non possiamo dire con esattezza cosa c'è di sbagliato, ma fondamentalmente parlando si discute la parte relativa all'economia. Quindi si discutono la parte relativa a costi e ricavi. Quindi stanno andando ad indagare su quella parte là per vedere se l'Inter ha trascritto effettivamente nelle operazioni di gestione reali oppure no. Perché se ci sono delle piccole dimenticanze, ragazzi, quelle sono dimenticanze che tutti possono avere. Qualche centinaio di migliaia di euro scappa quando fai un bilancio per una società che fattura. Quindi può scappare, stiamo parlando di una società molto grande. Quindi scappa, diciamo, l'euro scappa, i centomila euro scappan via, diciamo così. Se per caso però dovresti essere dimostrato quello che dice la fondazione, quello che dice l'entità, cioè che fondamentalmente parlando loro hanno alterato i bilanci, allora le cose si metterebbero veramente molto male. L'identità bianconera ha chiaramente detto che ci sarebbero stati problemi a livello di bilancio che avrebbero minato l'azienda Inter. Quindi l'Inter non aveva la possibilità di mettersi qui a, diciamo, riba... No, 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 ma proprio anche la gestione dell'Inter. Cioè se una società di calcio avrà il bilancio a posto non può fare nient'altro. Se voi siete titolari di una società di calcio e la vostra società di calcio non ha i bilanci in regola, voi non potete esistere nel mondo del calcio, perché vi prendono e vi retrocedono l'ufficio. Questo succede alle squadre dei re. Capito? Squadre che hanno dietro, purtroppo, dirigenti normali, non dirigenti che controllano l'intero sistema calcistico, ma dirigenti normali. Quindi di conseguenza l'Inter attualmente, se dovesse essere tacciata di questi reati, vedremo quali saranno poi in realtà le conseguenze. Io credo che ci sia molta chiarezza da fare a livello di bilancio. Io credo che ci siano state delle squadre a livello di bilancio in Italia negli ultimi anni che hanno subito veramente tanto. Cioè ci sono delle squadre che hanno veramente avuto un trattamento, secondo me, ridicolo sotto tutti i punti di vista. Per pochissimi soldi, eh? Si sta parlando di poche centinaia di migliaia di euro trasgrediti a livello di bilancio. Voi sapete bene cosa hanno fatto a queste società. Conoscete bene quali sono state le azioni intraprese? Bene. Qui non si sta parlando di centinaia di migliaia, qui si sta parlando di buchi enormi di soldi all'interno dei bilanci dell'Inter. Sempre sì dovesse essere confermato, eh? Ci mettiamo sempre il sì vicino perché fin quando non parlano, io giustamente non è che posso venire qua a dire l'Inter c'ha i bilanci falsi. Io non sono così. Ok? Dico chiaramente quello che penso. Mi riservo il diritto di riportare esattamente quello che mi viene concesso di riportare, visto che la stampa ultimamente parla veramente poco di questo argomento, guarda caso. e quindi di conseguenza ci limitiamo a discutere un pochino di quello che è il contesto. Mi meraviglio un pochino di una società come l'Inter. Cioè perché l'Inter in questi anni avrebbe avuto bisogno di alterarli questi bilanci secondo voi? Perché c'è qualcosa che va esplorato a livello di dirigenza. Cioè se dovesse essere confermato che l'Inter ha avuto problemi di bilancio palesi e chiari, io voglio sapere i nomi e cognomi di chi c'era in dirigenza. Perché sono loro i soggetti che bisognerà andare a prendere. Perché che dobbiamo fare? Non è che la società si è fatta da solo. Ci sono dei dirigenti che dovranno spiegare chiaramente perché su quel bilancio non risultano determinate cose. Mi sembra di una semplicità impressionante, no? Mi sembra che questo sia molto semplice da capire. Anche perché se veramente viene scoperta questa cosa, ti ripeto, l'Inter va incontro a delle cose molto gravi. Va incontro a delle conseguenze sportive molto gravi. Che attualmente possiamo solamente riportare in relazione a quello che è accaduto ad altre squadre che hanno fatto la stessa cosa dell'Inter. Poi dipenderà dalla procura di Milano, imparziale e meravigliosa, eh? Lì sono tutti imparziali. Ce ne sta uno che è dell'Inter. Nemmeno uno, ragazzi. Tutti imparziali. Guarda, gente come si deve davvero. Toccherà a loro esprimersi su quello che sarà fondamentalmente il concetto di reato. Se fondamentalmente parlando la procura stabilirà che il reato dell'Inter è di quel tipo, bisognerà agire per vie chiare. Mentre se la procura, data la grandissima competenza di cui gode, sarà invece d'accordo nel dire che l'Inter è pulita, allora l'Inter verrà giudicata pulita. Non è un tic, eh? Quando faccio così non è un tic. Bene. È una mia espressione palesata tramite l'occhio. Così. Vediamo un pochino cosa farà la procura, quindi. Vediamo un pochino cosa farà la procura. Quindi voglio conoscere un pochino l'intenzione della procura di Milano, che è una procura che negli ultimi giorni è stata tanto tanto sui giornali. No, si è parlato tanto di chi c'è a capo, si è parlato tanto dei soggetti che giustamente vivono all'interno della procura. Sono curioso di sapere come si comporteranno in caso di colpevolezza. Cioè, sono curioso. Che te devo fare? Sono veramente curioso. Quindi voglio conoscere un pochino cosa ne pensate voi da questo punto di vista. Voglio sapere cosa ne pensate. Voglio conoscere quali sono le vostre idee a proposito di questa situazione. perché anche se dovesse essere innocente, è stato presentato comunque un esposto. Ed è stato aperto un caso. Poi, non so cosa farà la procura, ripeto, ma penso che la situazione sia abbastanza chiara per tutti. Cioè, io penso che la situazione sia di una chiarezza impressionante. No? Non credo di sbagliare quando dico questa cosa. No ragazzi, non credo. Fondamentalmente parlando. Bene, voglio conoscere un pochino quali sono le vostre idee a proposito di questa cosa. Quindi voglio sapere un pochino quali sono le vostre idee, quali sono le vostre realtà, quali sono i vostri voti di vedere le cose. Voglio conoscere cosa pensate voi di questa faccenda. Cioè, voglio proprio capire cosa state pensando, cosa pensate, cosa credete che ci possa essere all'Inter. Perché oggettivamente parlando sono delle accuse abbastanza gravi. Quindi dobbiamo cercare di capire qual è la verità dietro la serie delle accuse. E intanto, insomma, vedremo le verità quali saranno. Quindi voglio conoscere un pochino la vostra opinione su questa situazione. Cioè, per voi, fondamentalmente parlando, l'Inter è innocente o colpio? Cosa farà? Cosa farà l'Inter? Cari me, voglio sapere.